con un gruppo che ha un nome molto particolare perché si ricollega a un periodo letterario con cleptomania degli sugar free, gli Eneide per difetto, un istinto incontrollabile, se ti vedo devo averti tra le mie mani liquidato da ogni dottore, no rimedio, queste le parole ma la mia cura potresti essere tu prima o dopo i pasti non mi importa due o tre volte al giorno se mi bastano per sperare aiutami a guarire da questa mia malattia affetto da una strada forma di creptomania ora che non ho più via d'uscita ora che ogni porta è stata chiusa apri almeno le tue gambe verso di me prima o dopo i pasti non mi importa due o tre volte al giorno se mi bastano per volare aiutami a guarire da questa mia malattia affetto da una strana forma di creptomania voglio averti mia solamente mia già sto meglio se ti tengo tra le mie mani sto guarendo se ti tengo tra queste mani aiutami a guarire da questa mia malattia aiutami a guarire da questa mia malattia Ma dica domani mia, voglio averti mia, solamente mia. Sì, Eneide!